Buonasera e bentrovati nella terza edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca arrestato. Questa mattina un pregiudicato di 32 anni che nel corso della notte dopo una lite ha inseguito la convivente sparandole con una calibro 38 alle gambe a intervenire subito sul posto la squadra volante, la squadra mobile e la polizia scientifica. Il fatto si è verificato nel quartiere Rancitelli di Pescara. La donna è fuori pericolo e aveva denunciato il convivente già mesi fa per maltrattamenti. Una lite in famiglia sfociata in un'aggressione con tanto di esplosioni e di colpi di arma da fuoco calibro 38 che ha portato all'arresto di un pregiudicato di 32 anni, Moreno Sagazio, a restare ferita la sua convivente, madre dei suoi sei figli. I fatti si sono svolti nella notte di domenica a Pescara in via Lago di Capestrano. Subito, grazie anche alla collaborazione dei residenti, questo va detto, si è capita la dinamica dei fatti pur non essendo presente la persona offesa, che è una donna di 26 anni da noi conosciuta sul posto, che era stata attinta da un colpo d'arma da fuoco, sparatole dal convivente. A seguito di una lite che l'aveva vista da prima in casa per poi lei fuggire fuori dall'abitazione, dove appunto era stata raggiunta dal compagno, che armato di un revolver l'ha fatto fuoco colpendola ad una gamba. Si è ricostruita subito quella che era la dinamica dell'episodio, per cui sono scattate le ricerche del sospettato del gesto, che è un pregiudicato del posto, si chiama Sagazio Moreno, il quale dopo un'ora e mezzo o due, fuggito a piedi, è stato rintracciato dalle volanti mentre cercava di allontanarsi da un'abitazione che si trovava vicino proprio al via Lago di Capestrano. È nata una colluttazione rapida con i ragazzi della volante, è stato tratto in arresto e successivamente ha ritenuto di farci trovare la pistola di cui si era disfatto durante la fuga. È stato messo a disposizione della Procura della Repubblica, nella persona del dottor Pompa, tratto in arresto con un'ipotesi che al momento è quella di lesioni volontarie gravi. L'accusa è quella di lesioni volontarie gravi. La donna si trova ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Pescara. Le sue condizioni non sono gravi. La donna a inizio anno aveva denunciato il convivente per maltrattamenti. Un soggetto già noto alle forze dell'ordine per droga, guida senza patente e detenzione di arma da fuoco senza licenza. Lui ha diversi trascorsi. Nonostante la giovane età, ragazzo di 32 anni, è conosciuto per pregiudizi in materia di stupefacenti, di resistenza pubblico ufficiale e anche specifici perché nel 2014 fu tratto in arresto proprio perché sorpreso in possesso di un'arma quando abitava in via caduti per servizio. Due anziani sono deceduti questa mattina in spiaggia. Un 74enne di Chieti è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre stava facendo il bagno nel tratto di mare antistante. Lo stabilimento balneare Venus a Francavilla al mare. L'uomo si trovava ad una decina di metri dalla battigia quando è stato visto accasciarsi e cadere in acqua. È stato subito portato a riva il soccorso, poi l'intervento dei sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Una donna di 84 anni, Ada Cavanna, è invece deceduta sulla spiaggia di Giulianova a causa di un malore. La donna si trovava a riva e mentre stava entrando in acqua si è sentita male. Subito soccorsa dal bagnino e da altre persone, l'anziana è stata portata sulla battigia. È sottoposta alle cure dei sanitari del 118 che hanno provato anche con il massaggio cardiaco, ma per l'84enne non c'è stato nulla da fare. Entrano a pieno regime i protocolli di intesa stipulati tra la casa circondariale di Pescara e i comuni di Pescara e Montesivano per l'avvio dei lavori di pubblica utilità sul territorio. 12 i detenuti che per la durata di un anno si occuperanno di manutenzione del verde e digitalizzazione documentale. È stata definita giustizia riparativa, in questo caso si parla ancora di integrazione di detenuti all'interno di utilità sociale. Questo patto cosa prevede? Ma oggi abbiamo siglato un protocollo di intesa importante col Museo delle Genti d'Abruzzo che ha accolto un detenuto in articolo 21 che si occuperà delle manutenzioni all'interno del museo. Si tratta, come ha detto lei, di un atto di giustizia riparativa e cioè di un lavoro che il detenuto fa per contribuire a ricucire in parte la ferita che ha causato alla società quando ha commesso un reato. È quindi molto importante per il percorso personale del detenuto ma è anche molto importante perché in questo caso il detenuto ha avuto un'attività di formazione che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, si reinserisce in un contesto esterno, inizia a vivere le regole dell'attività lavorativa e quindi questo è un percorso molto importante anche ai fini del reinserimento lavorativo che è la cosa alla quale noi puntiamo perché la formazione e il reinserimento lavorativo dei detenuti sono un investimento sulla sicurezza delle nostre città perché noi offriamo loro una seconda possibilità e probabilmente un detenuto che ha fatto un percorso così quando esce dal carcere vorrà vivere una vita diversa da quella che ha vissuto prima senza delinquere e chiaramente questo è un investimento per la sicurezza delle nostre città. Quanti sono i detenuti previsti in questo accordo? Ma ci sono dieci detenuti che lavorano già con il comune di Pescara, uno che lavora col comune di Montesilvano e adesso uno che lavora con il Museo delle Genti d'Abruzzo. Quindi ci sono già diverse unità di personale detenuto impegnati nelle nostre comunità e questo è molto importante appunto ai fini dell'investimento sulla sicurezza. Utilizzando della lacca per capelli come spray urticante a bordo di un autobus della linea 38 nella zona di Via Nazionale Atletica Nord a Pescara hanno rapinato uno studente senegalese di 22 anni e quando il giovane ha provato a reagire lo hanno insultato di morte e minacciato per il colore della pelle. Protagonisti dell'episodio avvenuto ieri a Pescara sono un 26enne residente a Cappelle sul Tavo ed una 36enne di origini uruguaiane, entrambi arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina in concorso. Quando si è verificata la colluttazione l'autobus si è fermato e i due sono fuggiti a piedi. Sul posto sono arrivati la polizia ed una pattuglia della polizia municipale. Gli agenti della squadra volante sono riusciti a rintracciare e a bloccare la coppia non distante e a recuperare la refurtiva. A Teramo i segretari provinciali di CGL, CISL e Will tornano a parlare di sanità per dire basta alla irragionevole politica dei tagli. Questa volta con un sit-in di protesta previsto per il 22 luglio. CGL, CISL e Will a difesa del servizio sanitario, pronti così ad una manifestazione di protesta sotto il palazzo regionale a Pescara prevista per il 22 luglio. Qual è la vostra denuncia? La provincia di Teramo è quella che ha pagato di più questi anni le politiche sanitarie regionali e nazionali. Siamo la ALS più virtuosa, siamo quelli che a parità di posti letto ha 800-900 lavoratori in meno in pianta organica. Faccio un solo esempio, Pescara che ha qualche decina di posti letto in meno della ALS di Teramo a quasi mille dipendenti in più. Oltre a questo, con il piano di riordino ospedaliero, ancora una volta chi ne paga le maggiori conseguenze è la ALS di Teramo. Se pensiamo che l'ospedale di Giuliano praticamente diventerà un ospedale fantasma ed è l'unico ospedale sulla costa da San Benetto a Pescara vediamo che le scelte di questa regione non vanno verso di risolvere le problematiche dei cittadini ma purtroppo, io penso, vanno nella direzione di dare più spazio al privato. Altre volte nei vostri interventi avete ricevuto dall'assessore Paolucci qualche risposta. Cosa farete oggi rispetto a ieri? Organizzare una protesta, un sit-in per venerdì 22 luglio sotto il palazzo della regione a Pescara sotto il palazzo della Sanità perché credo che dobbiamo cominciare ad alzare la voce. La cosa che a me stupisce sono i consiglieri regionali eletti nella provincia di Teramo perché nel difendere questo piano regionale non fanno gli interessi del territorio della mano. A sei mesi dall'avvio della protesta da parte degli ex interinali di Attiva rimasti senza lavoro dopo anni di rinnovi di contratto arriva l'annuncio della nascita di una associazione dedicata proprio a loro l'hanno chiamata Interinali senza gloria e porterà avanti la battaglia per la difesa dei diritti dei lavoratori. Adesso nasce un'associazione che si chiama Interinali senza gloria per rappresentare un po' quella che è la situazione che va avanti da tantissimi mesi perché era inverno. Il quadro attualmente qual è? Il quadro è un quadro di stallo così come da sette mesi a questa parte perché ricordiamolo noi siamo in protesta, c'è il presidio di fronte al comune dal 9 gennaio e tuttora viene portato avanti da nostri colleghi. C'è stata la settimana scorsa la sentenza d'appello dove la cosa più importante di tutto è che è stato riconosciuto la nullità dei contratti posti da Attiva SPA a Camillo D'Addario. Quindi la tesi che noi portiamo avanti da tempo ovvero che questo fosse nient'altro che un surrogato di un contratto a tempo indeterminato è stato confermato anche dalla Corte d'Appello. Prima in primo grado e poi dalla Corte d'Appello. Davanti a questo contrasto giurisprudenziale noi riteniamo che è necessario promuovere un ulteriore grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la quale già nel 2013 ha avuto modo di affermare che alle società in house per l'appunto si applica la sanzione quando viene accertata la nullità del termine della conversione. Come dire, sono valutazioni che adesso ci riserviamo insieme all'Avvocato Alfani di effettuare nei prossimi giorni. Ci sono 60 giorni di tempo per promuovere il ricorso per Cassazione e questo lo faremo nel rispetto dei termini processuali. Torniamo ora all'evento Fonderia Abruzzo che si è svolto sabato scorso a Civitella del Tronto nel quale c'è stato un faccia a faccia tra due protagonisti di una polemica che si è innescata la scorsa settimana ovvero il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone e il presidente di TUA Luciano D'Amico. È stato letterale faccia a faccia quello tra il presidente dell'azienda unica di trasporti TUA, Luciano D'Amico e il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone, contemporaneamente presidente delle autoline Baltur. La polemica era montata con un botta e risposta a mezzo stampa. Ballone criticava spramente la gestione TUA affermando che la privatizzazione della società regionale avrebbe dato risultati di molto superiori. Non l'aveva presa bene nel consigliere trasporti d'Alessandro che aveva ricordato a Ballone i due milioni di euro percepiti dalla regione alla sua società, nel presidente TUA che tanto aveva fatto per riportare in equilibrio i debiti delle tre società fuse in TUA che per la prima volta chiudeva il suo bilancio in positivo. Queste le dichiarazioni al termine del loro chiarimento. Direi sicuramente un chiarimento sul ruolo del pubblico, sul ruolo del privato. Io credo e su questo penso che convenga anche il presidente Ballone, è necessario, viste le trasformazioni che attendono il sistema del trasporto pubblico locale, viste le trasformazioni che attendono più in generale il trasporto dei passeggeri, unire in qualche modo le idee progettuali e cercare di definire un buon assetto dell'intero settore. Le ragioni per cui TUA, società pubblica, opera nel trasporto sono ben note, credo di poter dire anche condiviste dal presidente Ballone, peraltro è anche vero che c'è un intero settore, sono le linee commerciali su cui direi necessariamente l'imprenditoria privata potrà offrire delle soluzioni certamente interessanti e vincenti. Noi abbiamo espresso un concetto di carattere generale, io a nome di Confindustria naturalmente, Confindustria continua ad avere una linea su queste utility cosiddette, che è quella appunto di portare ad efficienza un settore come quello. Continuano a divergere le idee di condotta per l'azienda di trasporti? Abbiamo visioni diverse, naturalmente legittime, però alla fine operiamo tutti in questo mercato e stiamo operando ormai da decenni, quindi vuol dire che in qualche maniera si riesce a convivere. Si è svolto questa mattina a Teramo un incontro nel palazzo della provincia tra i sindaci del Teramano, il presidente della provincia di Sabatino e il gruppo Toto, concessionario dell'autostrada dei parchi che gestisce appunto la A24 e la A25. Il tema del dibattito è la realizzazione di una bretella di raccordo tra Basciano e Roseto degli Abruzzi. Il progetto sulla realizzazione di una bretella autostradale che collega Basciano a Roseto degli Abruzzi non convince il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, che durante l'incontro di questa mattina ha espresso le proprie perplessità. Secondo il primo cittadino, infatti, la strada non solo sarebbe una parallela della Teramo Mare ma finirebbe per tagliare la città dal traffico veicolare con gravi ripercussioni anche sul piano economico. Non avrebbe tutta questa utilità investire tanti fondi per realizzare una strada che sarebbe un doppione di qualcosa già esistente e i soldi potrebbero essere utilizzati diversamente per esempio nella realizzazione di un prolungamento della Pedemontana dalle Marche verso l'Abruzzo che a detta del sindaco Brucchi, oltre ad essere sicuramente più necessaria valorizzerebbe il patrimonio collinare. Per il neo sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino di Girolamo invece, la bretella andrebbe a decongestionare il traffico sulla statale 150 eliminando i disagi per chi deve raggiungere Roseto. Il progetto del gruppo Toto prevede sostanzialmente un nuovo assetto autostradale della 24 in Abruzzo. L'attuale barriera autostradale di Basciano verrebbe spostata all'altezza della rotonda creando un casello tra Basciano e Roseto. La nuova bretella, da 24 chilometri, sarà realizzata con soldi privati di Toto SPA un progetto di oltre 6 miliardi di euro che Strada dei Parchi conta di recuperare con un aumento del pedaggio fino al 2%. Nell'incontro, voluto dal presidente della provincia Renzo di Sabatino, tra i presenti, oltre alla sindaco di Teramo e Roseto degli Abruzzi, i sindaci di Basciano, Cellino-Atanasio, Cermignano, Morrodoro e Canzano. Entro fine anno, Strada dei Parchi conta di poter avere l'ok dal ministero per realizzare il progetto. Cambiamo argomento, sabato prossimo 16 luglio si svolgerà a Pescara la Notte Bianca dell'Adriatico con artisti importanti del calibro di Michele Placido, Fiorella Mannoia e Tonino Carotone. Oltre 100 di spettacoli in programma per un evento che lo scorso anno ha ospitato circa 200.000 persone in servizio. E' la seconda edizione della Notte Bianca del Mediterraneo che è un po' l'evento clou dell'estate pescarese. Vogliamo ripetere il successo dell'anno scorso, allorché 200.000 persone hanno riempito la più grande piazza lineare che si potesse immaginare, cioè la riviera pedonalizzata e chiusa al traffico. Sarà una notte di spettacolo, di intrattenimento, di festa e questo siamo sicuri che genererà riflessi positivi anche sull'economia locale, visto che iniziative di questo tipo moltiplicano il PIL. Per la seconda edizione quali saranno gli appuntamenti più importanti? Cosa è previsto? Tante iniziative a partire dal Adriatic Plus Coast Day, il 16, ci sarà il concerto di Fiorella Mannoia qui all'Arena del Mare della spiaggia della Madonnina, poi Tonino Carotone allo Stadio del Mare, Paola Turci sulla Riviera Sud a Piazza Le Laudi, Alex Neri dei Planet Funk Alex Cofa per l'area della musica elettronica, chiuderemo con Michele Placido su Piazza Salotto, Piazza della Rinascita e poi ci saranno oltre 30 gruppi a terra che animeranno tutta la serata, questa volta davvero dal tramonto all'alba. Sono più di 150 artisti coinvolti, oltre 70 iniziative, quindi ce ne sarà per tutti i gusti ma sicuramente ci sarà da divertirsi in questa notte che si pone l'obiettivo di diventare già da quest'anno uno degli appuntamenti principali dell'Adriatico è nel panorama nazionale. Invece a Teramo dopo due anni di stop torna la manifestazione Giochi Senza Frontiere. Divertimento e socializzazione, è questo l'obiettivo di Giochi Senza Frontiere che dopo due anni di stop torna in scena a Piazza Martiri della Libertà. Giunto alla decima edizione la manifestazione torna grazie al contributo di Fondazione Tercas, il CSI e il club Interamnia. 120 i partecipanti delle 12 squadre che si sfideranno in giochi a staffetta con percorsi di velocità e destrezza. Protagonisti le frazioni e i quartieri teramani. L'assessorato allo sport insieme all'assessorato alla cultura ha fatto quello che ha sempre fatto il Comune, cioè ha spinto affinché il Comune desse un appoggio economico a questa manifestazione e quindi abbiamo dato il padrocino attraverso la Fondazione Tercas. Quello che dico sempre, noi possiamo stare vicino ma poi le organizzazioni di certi eventi vanno lasciate a chi le organizza e che le sa fare benissimo. Giochi Senza Frontiere vedrà sfidarsi 12 frazioni. Quest'anno come partecipanti abbiamo Castagneto, con l'atterrato alto, con le Parco, Frondarola, Nepezzano, Piano Daccio, Piano della Lenta, Scapriano, Spiano, Unite, Villa Momano che si è fusa con Sardinara. Giochi Senza Frontiere è una manifestazione per tutti, dove i principali artefici non sono né attori né gente di cultura, ma è gente normale come noi, che abita i quartieri e le frazioni. Ci saranno in piazza tre giochi, come sapete serviranno per il gioco finale che sarà sorpresa. Mi raccomando, partecipate in molti in piazza, vi aspettiamo il 14 di luglio alle ore 21 a Piazza Martiri della Libertà. Tre giorni di incontri con massimi rappresentanti dello sport e dell'informazione a Ripatiatina. Dal 13 al 16 luglio si svolgerà il premio Rocchi Marciano, giunto alla sua dodicesima edizione. La dodicesima edizione significa che questo premio ha una valenza che viene portata avanti nel tempo. vengono insegnati di questo premio i rappresentanti di diverse categorie. Quest'anno ci sarà ovviamente una menzione speciale anche per lo sport, per il Pescara. Qual è il significato di un'immagine, di una figura come quella di Rocchi Marciano? Intanto è un grande evento, un grande festival che trae spunto dalla figura di Rocchi Marciano, dal mondo dello sport e da quello che come persona ha significato nello sport e anche nella nostra comunità regionale. Ma in realtà si tratta di promuovere un intero territorio. Da anni l'amministrazione comunale si impegna per queste finalità e finalmente la regione comincia a compiere qualche passo in avanti sullo sport perché si sono liberate giustamente delle risorse anche per questi obiettivi. Il festival si compone di quattro giornate. Si andrà dal pugilato con gli incontri interregionali Abruzzo contro Lombardia il giorno 13 luglio. Poi avremo il 14 e il 15 il primo festival della letteratura sportiva, avremo giornalisti e scrittori di prima firma. Il giorno 15 parleremo di una cosa molto importante, a cui teniamo veramente tanto, è sport e disabilità. Verrà Claudio Arrigoni, la prima firma della Gazzetta dello Sport, è esperto, massimo esperto italiano di paraolimpiadi. Poi il giorno 16 avremo la consegna dei premi molto importanti. Avremo personaggi di primo livello come Gianni Rivera, Massimo Otto, Leonardo Arbundu, Giulio Ciccone e poi le squadre abruzzesi che si sono distinte durante l'anno. Svolta nello scorso fine settimana la rievocazione della mitica Coppa Acerbo, la carovana di macchine d'epoca ha attraversato la provincia di Pescara. Vediamo come sono andate le cose a Loreto Prutino. Questo è il riconoscimento che l'organizzazione, la Old Motors, Abruzzo ci ha fatto per aver partecipato a questa manifestazione. L'altra sera ho avuto modo di conoscere la vedova del grande Bandini, il vincitore dell'ultima edizione del 1961 della Coppa Acerbo. E Lorenzo Bandini che come sappiamo morì in un incidente tragico automobilistico nel 1967. Ringrazio il club Old Motors di Pescara che ha portato una tappa del circuito di Pescara, un'erogazione delle macchine storiche. Questo come ringraziamento a chi ha ideato il circuito pescarese della Coppa Acerbo, il nostro concittadino Giacomo Acerbo. Quindi ecco, un ringraziamento e credo che questa tradizione possa essere portata avanti per i cittadini di Lorenzo, abituati alle gare automobilistiche che fin dal dopoguerra erano svolte nel circuito della provincia di Pescara e sono abituati, quindi una bella rievocazione. Oggi è una data veramente importante perché si celebra la rievocazione della Coppa Acerbo. Quindi quando si parla di Coppa Acerbo si parla sicuramente di Loreto perché se non ci fosse stato il barone Giacomo Acerbo che ricordava con questa manifestazione il fratello caduto eroicamente nel 1918, questa manifestazione oggi non ci sarebbe. Questa è stata la corsa più importante dal 1924 al 1961. È stata sempre vinta da campioni importanti e da macchine veramente di alto prestigio e a me fa piacere che dopo un lungo periodo di dimenticanza di questa manifestazione per fortuna oggi si sta recuperando questa tradizione. Il servizio ci introduce alla pagina sportiva, ora è ufficiale Luca Leone, il nuovo direttore sportivo del Pescara, il 46enne, ex giocatore e dirigente della Virtus Lanciano ha firmato un contratto di tre anni. Questo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa Luca Leone, era la conferenza stampa di presentazione tra gli altri dei nuovi Rei Manai e Cristiano Biraghi. Ascoltiamo le parole del Neo DS Biancazzurro. Sono molto contento, la verità è anche emozionato. Infatti non vedo l'ora di cominciare, mi sembra di essere il primo giorno di scuola però è una grande opportunità, ringrazio il Presidente per la sua fiducia nei miei confronti e farò di tutto per cercare di ripagarlo di questa fiducia che è molto importante, è una responsabilità che sento ma che mi affascina e non vedo l'ora di cominciare. Dicevi prima in conferenza stampa ho firmato il contratto senza neanche vedere le cifre da durata. Sì perché quando scegli non è importante il discorso economico, ho scelto le persone, ho scelto la società, ho scelto la mia città e so che devo dimostrare tanto per meritarmi questa fiducia. Questo momento per Luca Leone quali sono le priorità? La vera grande priorità è stata cercare di mantenere l'ossatura dell'anno scorso, secondo me quello è stato il primo grande acquisto insieme alla conferma dell'allenatore perché chi ha portato, meritato e combattuto e conquistato la Serie A era giusto che si giocasse la possibilità di restare a Pescara, di fare la Serie A e secondo me il vero grande colpo sono loro, quindi è da loro che bisogna ripartire e poi dobbiamo cercare di andare a colmare quelle che possono essere delle mancanze in questo momento per migliorare questa squadra che ha già un'ossatura abbastanza forte. Possiamo dire che un attaccante, un difensore sono gli obiettivi prossimi del Pescara? Sì, sicuramente il reparto dell'attacco va completato, è in difesa, forse un tassello importante ci serve. C'è questo problema del deferimento Luca, se così lo vogliamo definire, ci potrebbe essere il rischio di una mini squalifica? Giuro che non ho ammazzato nessuno, adesso vedremo cosa succederà, sinceramente non mi sono nemmeno preoccupato perché sentirò l'avvocato e vedremo cosa succederà. Lega Pro sta diventando una sorta di telenovela, la trattativa tra la Teramo Calcio e l'attaccante Marco Sanzovini nel pomeriggio si aspettava una risposta, ma è arrivata l'ennesima fumata grigia. Altra fumata grigia tra Teramo e Marco Sanzovini. Sarà una lunga cavalcata tra telefonate e incontri per rimare la distanza che ancora rimane, anche se è difficile stabilire di quale entità sia. Il giocatore ha dato però massima disponibilità al trasferimento e da valutare ci sono ancora degli aspetti legati al suo futuro a Pescara e nel Pescara. Risolti quelli ci sarà anche la via libera all'operazione. Ma il Teramo non vorrebbe nemmeno aspettare all'infinito perché c'è un ritiro che inizia mercoledì e una rosa ancora da completare con gli ultimi tasselli. Sarà dunque una lunga maratona che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, previsti altri contatti nella serata di oggi e nelle prime ore di domani per approfondire quanto ancora ci sia da animare. Sanzovini però si è detto pronto a sposare il progetto Biancorosso e a farlo già da subito e questo pone la società Biancorossa in una posizione di sola attesa. Sta alla finestra per valutare gli sviluppi, almeno fino a martedì sera. Intanto chi non farà parte del progetto è Alessandro Tonti che nel pomeriggio di oggi ha risolto ufficialmente il contratto. Il portiere Romagnolo lascia dopo due stagioni nelle quali il suo rendimento ha ricalcato tutto sommato quello della squadra. Super e imperforabile il primo anno, con qualche piccola amnesia il secondo ma dimostrando sempre di meritare il posto da titolare. A sostituirlo ci sarà Francesco Rossi dell'Atalanta, Rosa che partirà mercoledì mattina e saranno presenti con tutta probabilità anche Carcadis e Orlando. Resta da capire se anche Sanzovini farà subito parte della truppa. Riapriamo una parentesi di Serie A perché è stato presentato a Bologna l'ex giocatore di Virtus Lanciano e Pescara Federico Di Francesco. Il giovane giocatore abruzzese sogna già la sfida contro il Sassuolo allenato dal Papa e svela come il nonno fosse proprio un tifoso del Bologna. Ci tenevo a ringraziare la società Bologna perché mi ha dato fiducia e è un orgoglio essere qui. Sono in una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano quindi sono veramente contento. L'anno scorso ho avuto la fortuna di giocare in entrambi i ruoli. Mi sono piaciute tutte e due. Io penso che sia un bene poter fare tutte e due le cose. Mi piace dire, mi piace fare più questo. Per me il mio cuore è sempre stato un punto di riferimento. Sia da quando sono piccolo l'ho sempre visto giocare, l'ho sempre visto allenare e l'ho visto sempre come un esempio da seguire e per me il mio cuore sarebbe quello di superarlo. È normale che un figlio d'arte, come si dice, è sempre paragonato al padre però per me è un grande orgoglio. Sarà sicuramente un'emozione grandissima. Non ho avuto mai modo di incontrarlo quindi sarà la prima volta anche per la mia famiglia. Penso sia un'emozione grande. Poi sicuramente ho un tifoso in più perché il mio nonno è tifoso del Bologna da anni quindi dai tempi dello scudetto del 63-64 quindi in lui trovo un tifoso. Poi comunque sarà una grande emozione. Non vedo l'ora di giocare con la partita. Mi affaccio una nuova realtà, quella della Serie A ce la metterò tutta per mettermi a disposizione per migliorare allenamento per allenamento e so che poi di conseguenza i risultati arriveranno arriveranno i gol, le presenze e tutto. Finisce qui la terza edizione del TG6 che vi dà appuntamento a domani per la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.